Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'alta pressione è attualmente stazionaria sull'Europa centro-orientale. Correnti fredde giungono ancora sull'Italia, scivolando lungo il suo bordo orientale e queste permetteranno una certa variabilità sui settori adriatici. Saranno possibili brevi piovaschi e nebbie diffuse, in particolar modo nelle valli e sulle pianure del centro-nord. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 5 dicembre. Giornata all'insegna del cielo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Al mattino saranno possibili nebbie nelle aree interne lucane e pugliesi. Dal pomeriggio possibilità di deboli fenomeni su tutti i settori ionici. Temperature, come possiamo vedere dalla grafica, in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi, ma in media con il periodo. Soffieranno venti deboli dai quadranti sudorientali, mentre per quanto riguarda i mari risulteranno mosso l'Oionio, poco mosso invece l'Adriatico. Per il consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà per questo scatto che immortala nei pressi di Roca Vecchia la mareggiata che ha colpito le coste adriatiche salentine nei giorni scorsi. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.